Musica Arrivano le prime conferme da parte dei 5 consiglieri che hanno scelto di proseguire per la loro strada e sostengono la tesi del consigliere Palazzo che vuole una chiarificazione da parte del sindaco in merito alle accuse lanciate nei confronti di alcuni consiglieri comunali che vanno ad offendere l'operato di tutti i consiglieri oppure che vengano fatti i nomi dei consiglieri i quali Consales faceva riferimento Insomma, ancora problemi nel centro-sinistra Brindisino Intanto il riferimento alla rappresentatività di alcuni assessori rispetto ai rispettivi consiglieri di riferimento Due esempi tra tutti l'assessore Cacciaro del PRI che evidentemente non rappresenterebbe più il consigliere Sergi e l'assessore Giunta che non sarebbe più ben visto da quale legge Annace Ma non è tutto perché anche i due ex Udc non hanno più obblighi morali verso i propri assessori e Cleseiaia e Palazzo e Manfreda, scalpitando, rischiano di falcialtare il proprio assessore e c'è Donofrio Insomma, contrasti che rischiano di falcialtare un sistema che era stato appena collaudato qualche mese addietro quando furono sostituiti tre assessori Oggi c'è il rischio che quell'operazione debba essere ripetuta ma senza garanzie di stabilità Vicenda rifiuti ancora al centro di non poche polemiche Al comunicato delle ultime ore del sindaco Gonzales arriva la risposta del coordinatore cittadino del PDL Pietro Santoro Non abbiamo mai detto che Gonzales, nel suo vecchio ruolo da detto stampa, effettuava le scelte operative e assumeva le responsabilità del governo Abbiamo soltanto detto che per quell'attività, da lui svolta in passato, ha potuto conoscere bene le situazioni e le difficoltà Nel nostro comunicato non abbiamo per nulla contestato l'avvenuta solidarietà verso altri territori della regione Abbiamo soltanto detto che quando è stato convocato a Bari l'assessore regionale nell'ambito Nicastro per tale avrebbe potuto scogliere l'occasione per approfondire e sollecitare la soluzione di qualche problema nel territorio come per esempio l'AIA per il ciclo dei rifiuti Per quanto riguarda l'attività comunale del centro-sinistra gradiremmo quale segno di collaborazione l'indicazione di qualche atto importante da consultare visto che, malgrado l'impegno messoci, noi non siamo stati in grado di recuperarlo Hanno preso il via l'attività di animazione ludica organizzati dalla cooperativa Mani con il servizio La città dei ragazzi è intitolata Quartieri in gioco e Stato 2013 nell'ambito del piano comunale e territoriale Coloriamo la città In tal senso è stato programmato un vero e proprio calendario di attività diversificate Caccia al tesoro, festa a tema, percorsi e giochi di squadra, balli e trucchi e collaboratori a tema che mira a riunire e far stare in compagnia per tutta l'estate fino al 27 agosto tutti i bambini e ragazzi che vorranno partecipare alle attività La seconda delle tante iniziative si è tenuta presso l'oratorio parrocchiare del rione Capuccini sul tema del grande gioco dell'oca prossimo appuntamento per martedì 18 giugno a Totorano presso la corte Puccini con una festa sul tema della grande foresta Incontro organizzato presso l'hotel Palazzo Virgilio dal circolo IDEA a destra di Fratelli d'Italia con una conferenza stampa di presentazione del progetto Scuola di formazione amministrativa con spunti politici rivolto alle nuove generazioni per aiutarli e sostenerli nel loro primo avvicinamento alla politica Il progetto mira infatti a formare e a guidare i nuovi giovani nel loro percorso politico all'evento promosso dal circolo Brindisino di Fratelli d'Italia erano presenti il coordinatore dello stesso, Roberto Quarta e la neoletta portavogge provinciale del partito, Livia Antonucci A tu per tu con i grandi campioni il sogno di ogni giovane calciatore diventa realtà grazie al football summer camp tenutosi a Brindisi nello stadio comunale Fanuzzi I big dello sport sono stati coinvolti per tutta la settimana in varie proprie giornate di allenamenti con i bambini iscritti al camp Archimede Morleo, tarsino del Bologna Calcio ha raccontato ai ragazzi che per arrivare a giocare nella massima serie ci vuole impegno, costanza e tanta grinta Per avere la stoffa dei campioni bisogna anche andare bene a scuola perché altrimenti il mister ti spedisce in panchina Durante la settimana i ragazzi tra gli 8 e i 18 anni hanno seguito lezioni sulla tecnica di base tiro, guida, ricezione, colpo di testa, domnio sulla tecnica applicata, marcamento e smarcamento, possesso palle e moderni concetti del gioco Oggi, nell'ultima giornata del summer camp, è avvenuta la premiazione di tutti i piccoli atleti a cura del bomber di origine brindisina Daniele Vantaggiato Grazie a tutti 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 Grazie a tutti